In questi giorni ben si addice davvero per Soave la definizione di paese dei presepi. L'iniziativa, che è una lunga tradizione, propone un itinerario attraverso le vie della cittadina medievale alla scoperta dei numerosi e suggestivi presepi realizzati all'aperto e nelle chiese in una ventina di siti. Anche quest'anno ospitiamo una bellissima rassegna che veramente attirerà moltissimi turisti, sta già veramente riscuotendo un grande successo, si chiama Soave Paese dei Presepi, una rassegna che dal 17 di dicembre fino al 17 gennaio raccoglie moltissimi presepi realizzati grazie soprattutto alla Proloco e alle tante associazioni che ci sono qui a Soave. I sei arrivano in magia e cosa succede qui a Soave? Si può sempre visitare tutta la bella installazione del paese dei presepi che abbiamo qui a Soave e poi il giorno proprio dell'Epifania c'è sempre il Natale dell'anziano, una grandissima festa qui al Palazzetto dello Sport che abbiamo qui a Soave. Già all'ingresso di Soave a Porta Verona i visitatori possono ammirare numerosi presepi e installazioni come quella di Maffeo d'Arcole, l'incontro che invita a pensare ai grandi temi dell'umanità e a cui una mano irrispettosa ha sottratto il bambinello. Proseguendo per le strade cittadine si arriva alla Chiesa dei Dominicani, dove sono allestiti una cinquantina di presepi che testimoniano la bravura, la fantasia e la capacità di tanti appassionati che con materiali diversi hanno voluto rappresentare la nascita di Gesù. Poco distante, nel Palazzo Municipale, è allestita la mostra Il Volto di Gesù, con pannelli che illustrano gli affreschi dei pittore originario di Soave, Adolfo Mattielli. La mostra vuole un po' rimettere in gioco gli affrescatori che sono vissuti tra l'800 e il 900 nella provincia di Verona. Nel caso di Soave abbiamo un affrescatore particolare, Adolfo Mattielli, che è vissuto dal 1883 al 1966 e ha portato il suo apporto pittorico in tutto il Triveneto. Una mostra sul volto di Gesù. Sì, legata proprio al Natale, ma non solo al Natale. Lo sviluppo del presepio è anche lo sviluppo della vita di Gesù. Senza nascita non c'è neanche la morte e la nascita è il momento fondamentale della vita di Gesù. Il suo volto appare nella trasposizione del Mattielli come un'identità forte. Talvolta è severo il suo volto. La bonarietà del volto del buon pastore dà l'idea di come il Mattielli vivesse anche l'umanità della sua terra. Un autore da riscoprire. Certamente, non solo lui però. Questi affrescatori che hanno fatto opere straordinarie, anche per grandezza, per quantità, andrebbero rivitalizzati e rivalorizzati, perché il loro apporto alla fede è stato straordinario. Le loro opere erano didascaliche rispetto al...